Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Oggi vedremo insieme una grande novità arrivata nel catalogo Tessiland. Stiamo parlando del cotone DMC, in particolare il perlé, un cotone di altissima qualità riconosciuta in tutto il mondo per la sua brillantezza, per la sua resistenza e soprattutto per la sua versatilità. Oggi lo scopriremo insieme. Eccolo qui il nostro perlé, un piccolo gomitolo da 10 grammi per 80 metri. Come vediamo un filato molto ritorto, davvero splendido, molto morbido e setoso al tatto, che donerà un aspetto molto voluminoso ai vostri lavori. Un aspetto tridimensionale, diciamo. Come vediamo un filato molto brillante, questo perché realizzato con puro cotone egiziano. Inizialmente pensato esclusivamente per il ricamo, questo filato nel corso del tempo è stato poi utilizzato anche per altri scopi. Pensate ad esempio ai bijoux. Questo sicuramente anche grazie alle tantissime gradazioni di colori disponibili. Essendo così numerose faremo ora una breve panoramica su tutte quelle che sono le varie nuance di questo filato. Ecco qui quindi una brevissima panoramica sulle varie sfumature in cui è disponibile questo filato. Come vediamo è disponibile anche nella versione sfumata. Nella clip che seguirà potrete vedere tutte le colorazioni disponibili in catalogo. Grazie a tutti. I punti realizzati con il perley risultano essere particolarmente voluminosi e brillanti, un risultato difficile da equiparare con altri prodotti. Negli ultimi tempi la moda ci ha inoltre mostrato come questo filato possa essere utilizzato anche per personalizzare capi più casual. Ad esempio abbiamo visto l'utilizzo anche sulle passerelle per la personalizzazione di una semplice t-shirt bianca o perché no un jeans o addirittura pensate all'e-commerce. Vi resta solo che dare spazio alla vostra fantasia. Arrivati a questo punto io vi ricordo di attivare la campanella e iscrivervi al nostro canale così da non perdere nessuna novità a Tessiland. Vi ricordo anche di seguirci su tutti i nostri canali social. La pagina Facebook Meglio di Maya, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog. Al prossimo Tessiland News!